L'ICS, l'International Chamber of Shipping, organizzazione mondiale dello shipping, in occasione della festa del lavoro sta promuovendo un'iniziativa volta a far sì che il maggior numero di navi attraccate nei porti di tutto il mondo suonino le sirene a bordo alle ore 12 locali del 1 maggio con lo scopo di ricordare il contributo dato ai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta. Il corpo della Capitaneria di Porto, quale segno di vicinanza al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare che svolgono un lavoro duro e impegnativo a sostegno del paese, ha deciso di aderire a tale iniziativa invitando i propri comandi sparsi lungo gli 8.000 km di costa a far sì che le dipendenti motovedette in servizio nella giornata del 1 maggio suonino le loro sirene alle ore 12 locali all'unisono con quelle delle unità mercantili. A tutti loro che trascorrono la propria vita lontano dagli effetti in questi giorni così difficili arriva il nostro pensiero, la nostra vicinanza. Con queste parole il comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, ha voluto esprimere la solidarietà di tutti gli uomini e delle donne della Guardia Costiera agli equipaggi delle navi mercantili, che soprattutto in questo difficile periodo sono costretti a lunghe permanenze a bordo.